È Macri Puricelli la giornalista vincitrice della prima edizione del premio Parchi del Veneto, promosso dalla Regione per l'Anno Mondiale della Biodiversità. Tre premi speciali sono andati, a pari merito, a Rosanna Precchia, Marisa Saccomandi e Francesco Casoni. Sono stati consegnati dall'assessore regionale ai parchi e aree protette, Franco Manzato. La manifestazione ha concluso due giorni intensi a cui hanno partecipato giornalisti ed esponenti di aree protette italiane e straniere. Il premio Parchi del Veneto è stato onorato con la medaglia di bronzo presidenziale, conferita dal presidente Giorgio Napolitano, sicuramente un buon auspicio per una manifestazione che intende riproporsi anche nei prossimi anni e migliorare ulteriormente. Il premio diventa quindi un megafono informativo per ricordare l'importanza di un segmento essenziale, i parchi, che riguarda il 5% del territorio, che va tutelato proprio perché è completamente inserito nella comunità veneta.